Questa è una nostra cosa, questo è un incontro con voi per ringraziarvi di quel che avete fatto a Rigopiano. Al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve tutti i soccorritori accorsi al Rigopiano, l'hotel nel comune di Farindola in Abruzzo investito da una valanga il 18 gennaio scorso. 29 furono le vittime, 11 i superstiti. Le vostre grido di gioia per quelli che vi erano in quel momento presenti quando si è tratto in salvo il primo bambino sono state condivise da tutti nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese. Gli 11 salvati sono dovuti al vostro impegno, alla vostra opera. Siamo arrivati quindi sul posto durante la notte in uno spettacolo quasi surreale, in mezzo alla bufera al buio, non riconoscendo purtroppo inizialmente neanche i ruderi dell'albergo che erano completamente sommersi dalla neve. Non tutte le persone siamo riuscite a trovarle vive, però comunque lavorare per poter ridare comunque i corpi delle persone scomparse ai propri cari, a meno quello siamo riusciti a farlo.